Ci scommetto che un rotolo di zucchine così buono non l'hai mai mangiato. Adesso ti spiego come prepararlo, ma prima ricordati di seguire molto food. Taglia le zucchine a fettine e grigliale. Disponile su un foglio di carta forno leggermente sovrapposta e formando un rettangolo. Farcisci con stracchino prosciutto cotto, rucola, pomodorini secchi e un pochino di scorza di limone. Arrotola aiutandoti con la carta forno e metti a riposare in frigo fino al momento del servizio. Et voilà, il nostro rotolo di zucchine è prontissimo!